Sul secondo tema, non ho letto questo commento, però una cosa la so, la comunicazione sulla flessibilità della Commissione europea che risale a gennaio non contraddice, il patto di stabilità è crescita, non si riscrive il patto, non si inventano nuove regole, non c'è creatività applicata a tali regole. E' l'interpretazione di queste regole nel quadro stabilito da queste regole e questo permette di avere più flessibilità e permette di correggiare occupazione e crescita. Di cosa si tratta? Lo ribadisco, ora faccio una sintesi. Per cominciare, quando un Paese si lancia in una politica di investimenti ambiziosa deve poter ottenere qualcosa da questo. Poi, quando un Paese decide di fare riforme strutturali importanti e coerenti attraverso piani compositi, deve poter avere dei vantaggi da questo e deve essere incoraggiato in tal senso. Poi, quando le condizioni cicliche in un Paese o in un altro sono positive, allora deve poter fare uno sforzo più grande. Quando le condizioni cicliche sono peggiori, per esempio per Italia, quello che ci ha spinto ad abbassare il livello richiesto di impegno strutturale da 0,5 a 0,25 punti, allora l'impegno può essere più basso, perché abbiamo visto proprio questi fattori. Quindi la comunicazione rappresenta una necessaria trasparenza. La flessibilità c'era già prima, ma era utilizzata magari in modo arbitrario e non si spiega esattamente perché una decisione veniva presa. Ora, invece, i criteri sono stati fissati in modo chiaro e trasparente. Inoltre, concretamente, riteniamo che bisogna mantenere nell'Unione Europea, in particolare nell'Eurozona, un certo equilibrio positivo o buono fra consolidamento di bilancio, che è fondamentale, e l'incoraggiamento alla crescita e all'occupazione, aspetti vitali, fondamentali e attesi a livello dei vari paesi e delle varie popolazioni dell'UE. Per questo credo che questa comunicazione non va a incidere sul patto, anzi, lo consolida, lo arricchisce e permette alla Commissione, che sta proprio iniziando a fare questo, di utilizzare in modo più intelligente, anche più articolato, più trasparente, più favorevole alla crescita e all'occupazione di questo patto. Tutto a vantaggio della credibilità.